E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi però un video diverso dal solito perché non vedrete un mio classico gameplay su Fortnite dove spacco tutte e tutti ma oggi sono qui proprio per parlarvi, quindi un qualcosa che in realtà io non ho mai fatto in praticamente 4 anni che creo contenuti sul mio canale e su questa piattaforma. Inizio subito col dire che appunto sarà un video dove io vi parlerò di diversi progetti che ho in mente da in realtà un po' di anni e solamente adesso ho avuto diciamo l'ispirazione e l'energia di iniziare a percorrere diciamo questa nuova strada insieme a voi perché comunque dove sono arrivata in tutti questi anni e dove sono oggi è sicuramente grazie a voi infatti io non smetterò mai di ringraziarvi a ognuno di voi, ognuno di voi che mi ha seguito per tutti questi anni mi ha supportato in questo mio percorso che mi ha permesso di essere dove sono, non smetterò mai e poi mai di ringraziarvi quindi grazie ancora per tutto. Ma sono qui per dirvi qualcosa di molto molto interessante che in realtà per me è interessante e spero che ovviamente possa esserlo anche il tanto per voi perché comunque è un qualcosa che ho sempre desiderato fare ma non ho mai fatto. Diciamo che ho una storia dietro alle mie spalle un po' particolare perché diciamo che non ho avuto un passato completamente bello ho avuto diversi tipi di problemi tra anni e anni di ospedalizzazione continui problemi familiari, bullismo perenne a scuola e tanti altri problemi che diciamo che non voglio stare qua a spiegare perché questo non deve essere assolutamente un video triste o un video deprimente anzi deve essere tutt'altro. Però magari questo è qualcosa che potrei parlarvene magari in un altro momento in un altro video quando me la sentirò e sempre che voi magari vogliate sapere qualcosa in più riguardo me, riguardo Martina e riguardo il mio passato. Però diciamo che da quando ero piccola proprio per questi problemi mi sono rifugiata dietro al computer che è proprio da lì che è nata la mia più grande passione in assoluto che è quella appunto dei videogiochi che è una passione che ho veramente da tantissimi anni, veramente da quando ero una bambina alta così praticamente e me la porta tutt'oggi avanti ed è proprio grazie alla mia passione che sono riuscita a creare un qualcosa di veramente bello che è tutto quello che praticamente faccio adesso, che è praticamente diventato ormai il mio lavoro da più di quattro anni che è quello di creare contenuti, mantenervi, farvi divertire che è l'inventivo principale che ho sempre avuto da quando ho iniziato e ho tutt'ora. Possiamo anche dire che io ho avuto successo praticamente quasi da subito, già dalla pubblicazione del mio primo video che è stato appunto il 4 maggio del 2018, da lì ho avuto un boom colossale e io già prima comunque di pubblicare il video streammavo sulla piattaforma viola tutti i giorni, che è dove ho ottenuto la partnership praticamente in quattro mesi di streaming quindi veramente in pochissimo tempo. Quindi ho avuto un percorso veramente bello, pieno di soddisfazioni e tante cose positive che mi hanno veramente aiutato tantissimo anche a superare appunto tutti i momenti brutti che stavo passando e mi hanno proprio fatto diciamo sentire più apprezzata da qualcuno e mi avevano fatto capire che era la stata appunto giusta, che stavo facendo per la prima volta finalmente qualcosa di buono e qualcosa di positivo per le persone, dato che comunque mi arrivavano tutti i giorni e mi arrivano tutti i giorni, tuttora, comunque complimenti o magari di persone che mi ringraziano che riesco a fargli passare anche dieci minuti della giornata in modo, con il sorriso, in modo più divertente quindi queste sono soddisfazioni per me personali che sono forse il tesoro più grande che io possa ricevere da quello che effettivamente faccio su internet, sui social e su tutte le piattaforme che appunto seguo e dove carico appunto i miei contenuti. Proprio per questo motivo, dato che sul mio canale appunto ho sempre pubblicato video inerenti appunto a gameplay perché vi ho portato diversi giochi sul mio canale, tra cui appunto Fortnite principalmente, vi ho portato Among Us, vi ho portato Fall Guys, serie su Minecraft, a volte anche Warzone, insomma ho cercato sempre di portarvi dei contenuti inerenti ai giochi, ovviamente giochi che a me piacessero perché un gioco che a me non piace non riuscirei mai a portarvelo nella vita perché le cose in modo svogliato io non riesco a farle, proprio mi rifiuto categoricamente e questo lo sapete benissimo dato che in un periodo dove io comunque avevo avuto il boom avevo anche smesso di giocare a Fortnite per un mese e mezzo proprio perché non apprezzavo quella season e io ho smesso di giocare sebbene abbia avuto appunto un drop di visualizzazioni ma a me la cosa non importava perché io voglio portarvi sui miei canali sempre un qualcosa che a me piace fare, non vi porterò mai un qualcosa che io non riesca a fare cioè deve essere una cosa di cui proprio mi, di cui dico questa cosa è bellissima, la voglio fare non la devo fare, ma la voglio fare è proprio perché lo voglio fare dopo due anni di riflessione, idee, pause, problemi eccetera eccetera alla fine ho trovato l'ispirazione giusta per iniziare questo nuovo progetto insieme a voi perché ovviamente è un progetto che non è che faccio da sola lo faccio insieme a voi e come mai solo adesso ho deciso di iniziare questo progetto? questo perché finalmente dopo tanti anni ho trovato comunque la serenità di cui avevo bisogno ho intrapreso alcune strade che mi hanno portato ad avere e ad ottenere quello che desideravo da tantissimo tempo che era quello di andare a vivere appunto per i fatti miei casserimi a Milano, conoscere una bellissima persona che è la persona con cui convivo adesso che è appunto Giorgia, la conoscete sicuramente perché l'avete vista nei miei video nel canale Viola, sul mio Instagram, sul mio TikTok, ovunque quindi diciamo che adesso sono molto molto più serena e anche molto più motivata nel creare dei contenuti nuovi e particolari ma cosa intendo per contenuti nuovi e particolari? e come voglio farli? inizio col dire che non smetterò di fare video in rientra al gaming anzi, ogni settimana continueranno ad uscire sempre con costanza due video settimanali in renti ai videogiochi e ho pensato a come date lunedì e giovedì mentre il sabato portarvi un video particolare cosa vuol dire che particolare? ve lo spiego subito la mia idea è quella di portarvi dei video divertenti, particolari dove comunque faccio delle cose stranissime che vadano appunto fuori dal gaming che possono essere appunto delle challenge, delle sfide fatte magari sia da sola che magari anche in compagnia per esempio con Giorgia o magari dei video unboxing di robe comprate su Wish, su AliExpress, su Amazon che poi magari le vado anche a provare con voi tipo che ne so il mouse più piccolo del mondo, faccio un esempio dei video particolari, qualcosa di diverso dei video anche vlog non appena si potrà tornare a viaggiare a me piacerebbe tantissimo viaggiare e poter vloggare con i momenti proprio per portarvi le mie esperienze di vita cioè quello che io faccio al di fuori comunque degli schermi è bello secondo me fare vedere anche le proprie esperienze che magari possono far allegrare le persone o magari qualche messaggio particolare qualsiasi tipo di video anche motivazionale cioè vorrei fare tutto ciò che mi passa nella mente e tutto ciò che a me veramente va di fare quindi se io domani voglio fare un video sfida video unboxing io lo registro perché io voglio fare sempre quello che mi va di fare anzi io mi sono già scritta peraltro sul telefono però non posso farvi vedere il tutto però guardate qui mi sono scritta tutte delle idee ho già ben 20 idee e passa di video che vorrei fare sul mio canale tutti i video che se ci penso dico mio dio non vedo l'ora di registrarli perché ho una voglia immensa di farli infatti vi posso dire tranquillamente che da settimana prossima quindi sabato uscirà il secondo video appunto del canale registrato in modo appunto particolare quindi non ci sarà un video gameplay ma i gameplay saranno lunedì e giovedì ma sabato da prossimo sabato insomma ci saranno video appunto quelli proprio capito no? quelli proprio particolari quindi quindi aspettatevi di tutto dalle reaction agli unboxing alle challenge aspettatevelo perché lo porterò sul mio canale quindi sarà proprio un diciamo un'evoluzione del canale e mi ampierò diciamo su nuovi fronti che non sarà solo quello del gaming anche se il gaming ribadisco non finirà mai di esserci sul mio canale perché è la mia grande passione proprio la più grande che ho è il gaming quindi quella lì proprio non può finire per nessun motivo al mondo quindi niente ragazzi io spero ovviamente che questo mio progetto queste mie idee che ho da un bel po' di tempo e che finalmente ho deciso di realizzare di seguire e di creare per voi insieme a voi possa effettivamente piacervi possa interessarvi è una cosa a cui ci tengo particolarmente tanto e spero vivamente che voi possiate diciamo apprezzare e soprattutto siate pronti a seguire questo percorso insieme a me ovviamente vi ricordo che voi tramite i commenti potete scrivermi appunto cosa ne pensate di questo video in generale e cosa ne pensate di questo diciamo mio nuovo progetto che ho di ampliare il mio canale e i miei profili comunque in generale dandomi anche idee stesse su magari tipologie di video che secondo voi potete registrare che possono essere diciamo delle cose interessanti particolari divertenti che proprio magari qualcuno di voi mi dà un'idea proprio bella da fare io la posso tranquillamente realizzare se ovviamente l'idea che mi avete dato è interessante e ovviamente deve interessare sinceramente a me proprio da registrare però insomma potete essere liberi di consigliarmi qualsiasi cosa essere sinceri tranquillamente dicendomi cosa pensate di questo video di questo mio nuovo modo di parlare con voi perché è qualcosa che non ho mai fatto infatti non sono neanche così tanto esperta probabilmente non lo so nemmeno magari sono stato anche logoro che vi avrò annoiato non lo so ovviamente spero di no perché non è di certo la mia intenzione quella di annoiarvi anzi svegliamoci e quindi nulla ragazzi spero davvero che sia insomma tutto chiaro e se sto facendo questo è perché davvero ci tengo davvero tanto a voi tengo davvero tanto al mio canale e voglio veramente fare un qualcosa di diverso quindi delle cose che mi appassionano oltre al gaming le voglio fare ve le voglio portare qua sul mio canale detto ciò ragazzi se vi è piaciuto questo video ricordatevi di lasciare un bel pollicione in su e fatemi sapere nei commenti appunto come ho detto poc'anzi cosa ne pensate e vi ricordo che potete trovarmi su tutti i profili social qui sotto in descrizione trovate tutti i link a partire da instagram dove sono a contatto con voi tutti i giorni e il mio canale viola dove sono in live tutti i giorni dalle 4 e lì mi trovate in live per 7-8 ore tutti i giorni quindi se li passate mi trovate al 100% e quindi nulla ragazzi ci vediamo a un prossimo video lunedì giovedì gameplay e sabato video particolare quindi vi raccomando preparatevi perché ce ne saranno delle belle ragazzi ce ne saranno delle belle ne sono sicura a un prossimo video una buona giornata martina si deve da da ciao belli ciao ciao Grazie a tutti.